Eter, dacci qualche informazione sulla soffitta! I sensori del cellulare rivelano una specie di barriera decisamente troppo alta per saltare. Bisognerà trovare qualcosa da portare fin là. Trovare qualcosa di pesante? Grazie Eter, sei un tesoro! Tutti pronti? Tutti pronti? Ti senti fortunato? Che rossi hanno ora il tiro al progione! Senti fortunato, Bullettone? Piedono scusa, devo toccare il cielo! Piedono scusa, devo toccare il cielo! Un bracione non è mai arrivato così in alto! Un bracione non è avversato! Un bracione non è avanti che si tratta. Un bracione non è avversato! Un bracione non è avversato! Azzorante! Alcanzare non è avversato! Etti che. Azzorante! Tu lo vi trastic, al resto penso io. Ho reconfezionato per l'anima! Fortunatamente per me sono del tipo scavogionato! E' noia! E' noia! E' noia! Che! È passato! C'è il suo che... Con il suo che... Con il suo che... Si muero... C'è il suo che... Che! Dessere il suo che... L'unico! e siamo di nuovo in ballo posso sentire il nostro velo sfrigolare 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 e continuare a colpire vuoi qualcosa di me? chiedo scusa devo toccare il cielo mi sta arrivando uno fratello con gli scotti si possono considerare e continuare a colpire e continuare a colpire ehi ragazzi scusate se vi interrompo di nuovo ma devo dirvi una cosa molto importante qualsiasi cosa facciate prima di uscire dalla soffitta siamo già fuori dalla soffitta oh sì giusto ok fa niente è molto molto importante che facciate moltissima attenzione con le armi quando siete in cortile perché? ah giusto scienza oh 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 Controlliamo il posto per eventuali trappole, poi chiamiamo gli altri. Le trappole non sono cattive, è il metallo di cui sono fatta esserlo.